L'esclusione dell'area industriale. Il Governo regionale ha giocato male e tardi la partita del PNRR. Dal dibattito di questi giorni sul futuro della zona industriale sracusana e sull'esclusione della stessa dai finanziamenti del PNRR sono emersi alcuni elementi significativi su cui occorre riflettere attentamente. Il primo è del tutto evidente che il Governo regionale ha giocato male e tardi la partita del PNRR. L'esclusione dell'area industriale e dei finanziamenti europei è l'effetto di una non curanza, di una disattenzione e di una manifesta in preparazione da parte del Governo musulmane a totale discapito di un'area industriale, delle sue imprese e di migliaia di lavoratori. Le levante discute di questi giorni degli esperimenti locali di centro-destra rivolte al proprio Governo regionale rendono la vicenda anche grottesca. Di tutto abbiamo bisogno, ma non di esercizi retorici, di un malcostume politico duro a morire. A Siracusa alzano la voce, a Palermo assecondano in religioso silenzio. Secondo elemento, registriamo una palese contraddizione tra le scelte assunte dalla Comunità europea in tema di transizione energetica e quelle del Governo italiano circa i progetti approvati nel PNRR. Recentemente infatti abbiamo letto nella decisione della Commissione europea di inserire il nucleare di quarta generazione e il gas nella cosiddetta tassonomia, cioè nell'elenco delle attività economiche definite sostenibili. Quindi da un lato l'Europa spinge per il ritorno al nucleare e al gas scelta che riteniamo sbagliata e anacronistica rispetto al tema dello sviluppo sostenibile e dall'altro in Italia non si finanzia l'ammodernamento e il rilancio del comparto petrolifero, pur essendo quest'ultimo uno degli asset strategici del Paese. Ma si lascia morire perché non rientrerebbe, nonostante gli ammodernamenti proposti, nelle attività economiche sostenibili. Sembra un vero e proprio cortocircuito legislativo e politico. Il fatto poi che ciò avvenga senza alcuna presa di posizione politica del nostro Governo nazionale, del nostro Governo regionale e delle forze politiche che li sostengono è un motivo di ulteriore preoccupazione. Terzo e ultimo elemento, la mancata partecipazione del territorio nella definizione degli interventi e nella individuazione di relative donne e strumenti finanziari. Il processo di redazione del piano, il successivo stato di valutazione dei progetti e le eventuali misure correttive da adottare restano a pannaggio degli addetti ai lavori e sfuggono al dibattito pubblico, alle sedi partecipate e al contributo del territorio. Noi non possiamo fare altro che prendere atto delle decisioni assunte. Non siamo messi nelle condizioni di conoscerne le ragioni e purtroppo non siamo nemmeno nelle condizioni di poter incidere in qualche misura. Delle scelte sbagliate ne paghiamo le conseguenze senza poter rimediare. Premesso ciò riteniamo utile muovere delle considerazioni sollecitate anche dagli interventi apparsi sulla stampa in questi ultimi giorni. La porta del PNRR sappiamo non essere definitivamente chiusa. Sembrano esserci ancora margini per intervenire. Il Ministero dello Sviluppo è la sede istituzionale da consultare immediatamente sulla base di un'idea di rilancio della zona industriale che parta dal territorio, urgentemente con l'obiettivo di salvaguardare le imprese a livello occupazionale nel pieno rispetto delle linee guida della transizione energetica. Il patto petrolifero deve essere tirato fuori dal cassetto, discusso e approvato nelle sedi competenti perché lo riteniamo prioritario al pari del piano nazionale di ripresa e resilienza. I fondi derivanti dal pagamento delle accise che lo Stato restituirebbe alle imprese in cambio di investimenti rappresentano un altro strumento importante a nostra disposizione che dobbiamo ottenere. E' giunto il momento dei fatti e non delle parole. Il fallimento del governo regionale e la disattenzione verso il nostro territorio del governo nazionale non devono farci desistere dal continuare a lottare per trasformare il nostro polo petrolifero nel più grande polo energetico italiano. In ballo c'è il futuro economico e occupazionale del nostro territorio e delle persone che ci vivono. Lo affermano Sebastiano Zappulla, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, Pierpaolo Montalto e Manuela Parrocchia, coordinatore regionale di Sinistra Italiana.